Piano della mobilità per le festività natalizie. Sabato 24 dicembre l'accesso alla rete del trasporto pubblico capitolino sarà gratuito. Si potrà viaggiare per tutto il giorno sull'intera rete senza dover pagare il biglietto. Sempre sabato 24 dicembre bus tram metropolitane saranno in servizio sino alle 21. Dalle 23.30 scenderanno in strada i bus notturni. Domenica 25 dicembre invece il servizio sarà attivo in due diverse fasce orarie. Al mattino dalle 8.30 alle 13 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16.30 alle 21. Viaggeranno regolarmente le linee bus notturne ovvero quelle contrassegnate dalla lettera N. A Santo Stefano normale servizio festivo mentre nella notte dell'ultimo dell'anno le metropolitane saranno attive sino alle 2.30 di notte.